È l'unico italiano componente del board del Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici che nel 2007 ha vinto il premio Nobel per la pace con Al Gore, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, protagonista da anni di campagne di sensibilizzazione e informazione sulle conseguenze del riscaldamento globale. Il professor Filippo Giorgi, originario di Sulmona, è stato ricevuto questa mattina all'emiciclo dal presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano. Io credo che l'attività che noi stiamo svolgendo in questi anni, cioè quella di far tornare a galla, soprattutto rendere più chiaro agli abruzzesi di quante eccellenze, di quante personalità, di quanti uomini e donne nati qui in Abruzzo abbiano poi raggiunto straordinari traguardi e di questo siamo lieti e fieri, ma soprattutto di quanto sia importante il loro essere attaccati a questa terra, a questa regione ed essere una risorsa per noi. Ecco, io credo che questo processo di consegna a queste persone un ruolo importante, è quello non solo di essere nostri ambasciatori, ma anche essere un vero e proprio collegamento per altri mondi che sono distanti all'Abruzzo, penso che sia una risorsa di cui noi dobbiamo soprattutto far tesoro. Una carriera brillante e prestigiosa, quella dello scienziato che ha preso il via proprio in Abruzzo, all'Università dell'Aquila, dove si è laureato nell'82 discutendo una tesi in fisica con il professor Guido Visconti. Da allora è stato tutto un susseguirsi di successi, un dottorato di ricerca alla School of Geophysical Science di Atlanta, cui è seguito un ruolo da ricercatore al Centro Nazionale di Ricerca Atmosferica del Colorado. Conclusa questa esperienza, nel 98 è rientrato in Italia, dove è stato nominato direttore della sezione di Clima e Fisica Meteorologica del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste. Ha scritto centinaia di articoli su riviste scientifiche internazionali su interazioni tra clima, chimica atmosferica e biosfera, ed è l'unico italiano inserito nella lista degli autori più citati nel settore delle scienze geofisiche. Un grande abruzzese che dimostra come con lo studio e la tenacia si possano centrare obiettivi e risultati importanti, anche partendo da realtà di provincia, spesso scollegati dai circuiti internazionali. Professor, un messaggio ai giovani abruzzesi, quindi si può raggiungere un grande risultato, gli obiettivi importanti a livello internazionale, anche se non andati in provincia, quindi in luoghi solitamente esclusi dai grandi circuiti. Certo, io sono nato a Sulmona, che è una bellissima cittadina, ma una piccola cittadina. Poi mi sono laureato all'Aquila, dove devo dire c'è un pollo scientifico abbastanza forte e da lì poi sono, diciamo così, emigrato negli Stati Uniti. Ho avuto questa occasione di vincere una borsa di studio e è una cosa che si può fare. Io non è che sia Einstein un grande genio, ma con il lavoro, con l'impegno, oggi ci sono tante possibilità per andare a lavorare all'estero, fare delle esperienze all'estero sempre positivo e poi ritornare, come ho fatto anch'io, che ora lavoro a Trieste, per cercare di far crescere anche la ricerca in Italia.